Questa biennale, come tutte le ultime, al dunque si domanda qual è, cos'è l'architettura, quali sono i suoi componenti, quali sono i suoi confini, quali sono le sue caratteristiche come strumento per operare. Che l'architettura è come una superficie elastica, che può essere tesa fino a diventare politica, può essere invece tesa dall'altra parte, fino a diventare forma, pura forma, puro fenomeno estetico. E quindi in questo concetto che tanti altri concetti presuppone e porta con sé, bisogna esserci e parlarne e discuterli, anche per scranificare in termini proprio di lessico e scientifico proprio la lingua che usiamo e i concetti che usiamo. Ora l'architettura di cui parliamo in questa biennale è un'arte per risolvere problemi. O meglio, sempre l'architettura è stata ed è un'arte per risolvere problemi. Qui se ne sottolinea questo aspetto, perché quello che è cambiato nel corso degli anni sono i rapporti, le dimensioni dei problemi, il luogo dove i problemi sono, le relazioni tra i problemi e noi che li viviamo, li abbiamo, li creiamo. Nel corso degli ultimi anni, negli ultimi decenni, in qualche modo la nostra capacità di regolare lo sviluppo dell'interesse privato nell'abitare o nel lavorare all'interesse nostro come cittadini pubblici, quindi soggetti pubblici, del vivere, dando alla parola vivere un significato più ampio che non la somma dei singoli atti quotidiani che compiamo e quindi del vivere anche come possibilità di compierne ulteriori e diversi. Abbiamo ridotto lo sguardo a queste possibilità e queste potenzialità, ci siamo concentrati nei paesi poveri per motivi estremi, ma anche nei paesi ricchi sulla risoluzione di alcune necessità elementari e abbiamo perso per strada quel semplice concetto che era invece chiarissimo nel passato, che quando si costruisce qualsiasi edificio o qualsiasi oggetto che occupa lo spazio nel quale viviamo, si dà una risposta a un'esigenza individuale, ma nello stesso tempo si risponde intervenendo nello spazio che ci accomuna, cioè nel luogo che ci vede vivere come parte della comunità. Per farla breve, quando si costruisce una casa, si costruisce qualcosa per sé, ma paradossalmente si costruisce anche qualcosa per colui che passa di fianco, perché lo spazio che c'è là fuori di questa casa appartiene a noi come passanti, così come appartiene al passante che non è altro che uno di noi, che in quel momento sta vivendo un momento diverso dalla vita privata, della vita rinchiusa. La capacità di unire obiettivi personali a obiettivi comuni è diminuita nel tempo e l'architettura torna quindi a dover essere invocata e chiamata come attitudine innanzitutto, l'averla tra noi in qualche misura già può cambiare le nostre domande, il considerarla completamente estranea da noi ci fa spegnere i desideri e le domande. Riportare l'architettura tra noi vuol dire riproporci queste domande e quindi riproporci il problema della qualità delle singole azioni viste come risposta a esigenze individuali e nello stesso tempo come risposta ad esigenze pubbliche e collettive. Dove, torno a insistere, non c'è divario ideologico. Quello che sta fuori siamo noi, siamo sempre noi. È l'egoismo espanso, non è l'altruismo ideale o una visione numerico-collettivista della società. Siamo noi che siamo ad un tempo abitanti e persone che operano e lavorano e nello stesso tempo persone che vivono lo spazio intorno a noi. Quindi averla l'architettura e chiamarla di nuovo in aiuto vuol dire esprimere appunto il desiderio di affrontare congiuntamente questi problemi, il nostro individuale, il nostro come comune, come bene di interesse pubblico. Quindi ecco che l'architettura in questa mostra è appunto chiamata in causa come una ninfa, una dea che si vuole ai torni tra gli uomini per risuscitare scintille di intelligenza e di volontà nel porsi con una nuova attenzione di fronte a qualsiasi scelta che dobbiamo compiere, privato o pubblica, e che riguarda lo spazio nel quale viviamo. L'applicare intelligenza, applicare pensiero alle cose che si fanno è lo stadio superiore della civiltà, non è un'utopia, lo si è realizzato in passato, in varie epoche, naturalmente la dimensione demografica è cambiata, occorre ripensare anche a quali sono le forme, le modalità con le quali l'interesse individuale può diventare maturato anche interesse pubblico, il problema delle istituzioni, il problema della partecipazione, il problema del conflitto tra un'idea di democrazia che sia puramente distributiva e un'idea di democrazia che miri a costruire e quindi a avere delle istituzioni forti per poter contenere gli egoismi privati. E quindi, via discorrendo, questa biennale dice le domande che possiamo porre all'architettura sono prima di tutto diverse dalle varie parti del mondo, ma possono essere poste ciascuna a modo suo nel luogo opportuno. non pensiamo di applicare la stessa tecnologia ovunque, non pensiamo di avere gli stessi strumenti di esecuzione delle cose ovunque uguali, vediamo dove sta l'ottimo tra tecnologia e forma che nelle varie realtà si possono realizzare, minimizziamo gli sperperi, ma soprattutto cerchiamo di porci di fronte a ciascun problema pensando, pensando che stiamo affrontando non un problema, ma dieci problemi contemporaneamente. Il pensiero che usa l'architettura sa che con l'architettura non si affronta mai un solo problema, ma molti contemporaneamente. e allora quando vediamo delle opere o degli interventi sul territorio che ci soddisfano è perché noi stessi percepiamo che coloro che l'hanno realizzati avevano dentro di sé le molte domande che ci si possono porre quando si realizza un intervento e noi passando formuliamo le nostre e riscontriamo che ci sono delle risposte. Quindi l'architettura di cui si parla qui è un'architettura di è l'architettura della vita nostra quindi non è l'architettura del pauperismo quella del minimalismo non equivochiamo questa mostra come una mostra dedicata al mondo povero o al terzo mondo o che so io è dedicata all'intelligenza applicata alle situazioni al pensiero applicato alle situazioni che deve essere quindi articolato nel momento in cui manifesta la domanda non dogmatico rispetto alle soluzioni possibili sensibili sensibili alle esigenze che possono essere manifeste nel caso specifici e coerenti nel momento in cui si trova una soluzione è l'architettura di una civiltà pensante quindi siamo fuori dalla dimensione estetica dalla dimensione delle strutture dalla dimensione tradizionale di uno dei tanti capitoli in cui era chiusa l'architettura quella appunto delle forme dei volumi dei rapporti delle cose siamo siamo addirittura un passo indietro l'architettura è innanzitutto l'esistenza dell'architettura tra noi significa la nostra capacità di porci in modo più compiuto intelligente di fronte alle esigenze di alle esigenze dello spazio nel quale viviamo è una biennale che vuole stimolare un nuovo modo di ragionare un nuovo modo di chiamare in causa gli architetti dell'architettura superando quella che è stata anni fa la caricatura dell'architetto cioè colui che è seduto in un bel salotto aspetta una telefonata da qualche sceico che gli faccia costruire l'ennesimo grattacielo questa è una caricatura che non risponde neanche alla realtà perché anche i grandi architetti che hanno fatto l'archistar solo perché abbiamo chiesto loro di fare l'archistar hanno lavorato e stanno lavorando a delle ricerche che sono in linea con quello che dicevo prima e cioè stanno lavorando con grande impegno a delle soluzioni ottimali nelle situazioni specifiche senza farsi dominare dal computer o dalle tecnologie estreme volendo imporre solo forme quello che è finito è spero che l'idea che con delle realizzazioni un po' spettacolari si finisca col dare l'illusione che l'architettura vive e c'è per il solo fatto che si modifica la skyline dei luoghi dove abitiamo quando invece nei luoghi che abitiamo il pensiero sembra assente e la dea architettura sembra essere stata imprigionata in un'isola del mare Egeo in attesa di qualcuno che vada a liberarla che vada a liberarla che vada a liberarla